Come fare per risolvere un problema, una situazione o una relazione che per noi non hanno altra soluzione che il lasciar perdere, arrendersi. La stessa soluzione identificata dai discepoli di Gesù senza scorte di cibo per le migliaia di persone che li seguivano. Ed era sera e il luogo era deserto. Rimandarle a casa. Ti è capitato vero di trovarti in momenti oscuri come la notte e luoghi di solitudine come deserti dove non avevi alcuna soluzione e non avevi mai 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 mai. per uscirne e hai sofferto il fallimento, la frustrazione di non poter per esempio parlare a tuo figlio, di non capirti con tua moglie, hai sperato di sposarti e niente, desideravi un figlio e ancora adesso non ne hai, puntavi tutto a quel concorso e altri ti sono passati avanti. È sera, arriva la notte, ma coraggio, non tutto è perduto, quella gente non stava seguendo un ciarlatano, uno dei tanti falsi profeti che anche oggi vorrebbero sedurci. Quella gente come te e come me stava seguendo Gesù Cristo, il Messia, il Salvatore, il Figlio di Dio. Ne avevano bisogno. Erano malati come te e come me e non si trovavano lì per caso. Quel deserto era il luogo di Gesù dove lui si era ritirato come lo è il luogo deserto dove tu oggi sei giunto seguendo il Signore. Questo deserto di fame e solitudine dove tu sei ora è il luogo di Gesù e questa notte nella quale non vedi nulla del tuo presente e del tuo futuro è la notte di Gesù, quella dove lui è entrato prima di te lasciandosi crocifiggere e uccidere. È la notte del suo sepolcro, ma Cristo è risorto dalla morte, è uscito vittorioso dalla tomba e oggi, proprio ora, è vivo, è accanto a te, nel tuo deserto, nella tua tomba e ti guarda con compassione, patendo cioè con te la tua sofferenza. Non occorre che tu vada a cercare ancora soluzioni dove non ne hai trovate. Non occorre cercare chissà dove ciò che può saziarti e realizzare la tua vita. È Cristo la soluzione, è Lui il pane, l'unico capace di saziarti donandoti la sua vita sovrabbondante. Basta lasciar perdere e scappare in chissà quale alienazione per non sentire dolore. Non hai che frustrazioni e fallimento? Non hai che speranze deluse e desideri incompiuti? Non hai con te che paure, angosce, debolezze e cadute? Non hai che te oggi, in questo momento, in questa notte, dai tutto a Cristo, consegnati a Lui così come sei ora e domani e ancora, ma fallo davvero senza tenerti nulla in tasca, cioè senza riserve, senza condizioni. Lo farai tremando, con le mani ferite e il cuore che ti batte a mille. Fallo attraverso la Chiesa e vedrai scendere la benedizione sulla tua vita, la vedrai trasformata in benedizione, tutto di te trasformato in pane, in amore che realizza ogni desiderio, perché l'amore di Dio è la soluzione ad ogni problema. Cristo è l'unico pane capace di saziare, al punto che anche tu, trasformato in pane, potrai dare te stesso da mangiare, donando Cristo vivo in te a chi ti è accanto.